Spiegami che cos'è. A me piace più il rosso. Questo è l'espeziato, i dolci di Salta e De Garda venivano utilizzati per chi aveva problemi al sistema nervoso e sono a base di farro e mandorle, oltre che le spezie. Questi più tondi invece venivano chiamati i dolcetti della felicità, sempre di Salta e De Garda. Questa invece è la torta delle rose montovana ed è stata creata una ricetta in onore delle nozze di Isabella d'Este. Qui abbiamo il vino speziato e la birra speziata, barro che si chiamava nel Medioevo. Guarda qua! Non c'è più posto! Dai Elena, vieni a me tu Elena! Dai Elena! Eh sì, dai! Oh, basta! Dai! Dai Elena! Dai! Dai! Oh, ma noi cosa siamo? Guardate, siamo! Ahahahahaha! Vieni, vieni! Vieni! Ti le fa vedere! Vieni, vieni! Mi hai dimorato il brano qua! Eh?! Mi hai dimorato il brano qua! Eh?! Mi hai dimorato il brano qua! Eh? Mi hai dimorato il brano? Brava, bravissima, complimenti.